E ciao a tutti ragazzi qui XWilli e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video, oggi siamo qui ritornati per parlare di Grand Theft Auto 6 Ebbene si, non parliamo di GTA 6 da un bel po' di tempo, questo per il semplice motivo che comunque le informazioni che sono uscite fuori sono veramente risicate, sono le solite, molte sono anche false Ma oggi voglio andare a parlare con voi di una notizia che ha sconvolto praticamente mezzo internet riguardante appunto GTA 6 e la sua data d'uscita Poiché di fatti nelle ultime settimane a quanto pare, stando a varie testate giornalistiche, Grand Theft Auto 6 potrebbe essere rinviato al 2026 Ma appunto voglio realizzare questo video un attimino per darvi la mia opinione e per andare a ragionare un attimino sul quadro completo della situazione Ovviamente prima di cominciare io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale, commentate, condividete e iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti E ovviamente fatemi sapere la vostra in merito a questa notizia, se già la conoscevate presumo di sì, più o meno però fatemi sapere la vostra idea in merito a ciò Partiamo subito col dire che Rockstar Games ad inizio mese, quindi marzo 2024, ha richiesto a tutti gli impiegati di ritornare in ufficio Quindi di abbandonare il lavoro in smart working e di andare a lavorare in ufficio 5 giorni alla settimana per avere più sicurezza nel lavoro Vi ricordo tipo i leak di settembre 2022 e linea di massima per essere più produttivi Poiché lavorando tutti insieme da un unico ufficio si è più produttivi E su questo ragazzi non ci piove perché un dipendente che lavora da casa è palesemente soggetto a miliardi di distrazioni Semplicemente immaginatevi di avere un animale domestico che mentre voi lavorate a Grand Theft Auto 6 Vi arriva, vi passa sulla tastiera e magari vi cancella mezz'ora di lavoro perché sì Quindi Rockstar ha richiesto a tutti i suoi dipendenti di rientrare al lavoro in ufficio per il mese d'aprile Da lì è iniziata una vera epopea poiché a quanto pare tutti gli sviluppatori non sono d'accordo con questa scelta di Rockstar Games In pochi vogliono tornare in ufficio, altri stanno facendo un po' di casini C'è chi ha paura di un nuovo periodo di crunching per appunto far uscire Grand Theft Auto 6 nel tempo previsto E quindi ciò cosa va a comportare? Va a comportare esattamente degli scioperi E se degli sviluppatori scioperano il gioco non viene sviluppato e non viene portato avanti Di conseguenza potrebbero esserci ritardi sulla linea di produzione del gioco stesso, no? E qui arriva il casino poiché Bloomberg a casissimo un due settimane fa lancia proprio la bomba Che manco fosse Oppenheimer dicendo appunto che Grand Theft Auto 6 secondo delle fonti interne Sarà rinviato al 2026 per ritardi nello sviluppo eccetera eccetera Ovviamente questa notizia ha fatto il giro del web, è stata rienterpretata nei peggiori modi possibili Letteralmente i titoli delle varie riviste erano Grand Theft Auto 6 rinviato al 2026 E ti spiegavano tutto il motivo per la quale Grand Theft Auto 6 è stato rinviato al 2026 Ovviamente ci tengo a specificare che tutto ciò sono sempre rumor di conseguenza nulla di ufficiale Però le riviste videoludiche ne hanno parlato come se fosse parola santa E da lì la gente che non ci ha più capito una mazza Chi ha preso la notizia per veritiera al 100% Chi ha la detta Bloomberg quindi è sicuramente corretta Chi ha semplicemente detto che cazzata Bene signori io faccio parte del che cazzata Poiché vi vado subito a spiegare il motivo A quanto pare Grand Theft Auto 6 originariamente nei piani di Rockstar Games Doveva uscire all'inizio del 2025 Quindi nei periodi che vanno tra febbraio e aprile del 2025 Abbiamo conferma di ciò guardando semplicemente le conferenze con gli azionisti di Takes You Dove ci doveva essere un grosso guadagno nell'anno fiscale del 2024 Che guardate caso è l'anno fiscale che si conclude verso se non mi sbaglio aprile maggio del 2025 Quindi tutto era in linea Esce GTA 6 in quel periodo Grossi incassi per Rockstar Games Grossi incassi per Takes You Si alza ovviamente l'incasso netto dell'azienda Ma se andiamo a vedere l'ultima conferenza con gli azionisti Quindi quella dopo l'uscita del primo trailer Possiamo vedere come Grand Theft Auto 6 non sia più in appunto anno fiscale 2024 Ma bensì in calentario 2025 Esattamente come possiamo vedere alla fine del trailer Dove compare la scritta Comin 2025 Un Comin 2025 molto generico che appunto dà libera interpretazione dell'intero anno Ok? Come potrebbe essere gennaio, come potrebbe essere il 31 dicembre del 2025 Quindi non una data ben precisa E stessa cosa è stata detta nella conferenza degli azionisti Ora, il gioco è palese che non uscirà mai e poi mai agli inizi del 2025 Almeno secondo me la vedo una cosa molto improbabile Che il gioco arrivi sul mercato agli inizi del 2025 Mentre vedo molto più probabile l'arrivo del gioco nei negozi Per la fine del 2025 Quindi periodo che va tra settembre, ottobre e novembre Questi tre mesi in buona sostanza Per due semplici motivi Uno sarebbe perfetto per quanto riguarda la tabella di marcia classica di Rockstar Games Con i rilasci dei vari trailer eccetera eccetera E due sarebbe anche diciamo la scelta dei mesi perfetti per Rockstar Games Poiché quanto devono rilasciare un gioco lo rilasciano solitamente in quel periodo lì Ora si vocifera anche di un secondo trailer a maggio Sinceramente parlando non so se aspettarmi un secondo trailer a maggio Secondo me un secondo trailer lo avremo più per la fine del 2024 Sempre nel periodo tra settembre e dicembre Lì mi aspetto il secondo trailer di GTA 6 A maggio c'è sì una nuova conferenza con gli azionisti Ma mi aspetto solo ed esclusivamente qualche screenshot di Grand Theft Auto 6 Screenshot che arriveranno nel corso dell'anno 2024 Fino al secondo trailer Nel secondo trailer vedremo semplicemente scritto Primavera 2025 per il lancio del gioco Quasi sicuramente Per poi alla primavera del 2025 vedere un altro trailer ancora Dove ci dicono che il gioco è stato rinviato per essere perfezionato In buona sostanza eccetera eccetera Alla fine del 2025 E lì avremo anche potenzialmente una data ben specifica Del giorno in cui sarà lanciato Grand Theft Auto 6 In buona sostanza beh quest'articolo è stato scritto un po' così Poiché viene anche scritto proprio all'interno dell'articolo Piccolissimo però Viene scritto che questa qui è l'ultima proprio situazione In cui Rockstar si potrebbe ritrovare E nella quale non si vuole assolutissimamente ritrovare Perché Rockstar e Tech 2 vogliono lanciare il gioco per il 2025 E metteranno tutte le loro forze affinché ciò avvenga Però se dovessero esserci davvero tanti problemi Con magari gli impiegati, gli sviluppatori che non vogliono ritornare in ufficio Quindi si perderebbe del tempo eccetera eccetera Se questa storia va avanti magari per un mese Due mesi Allora lì potrebbero esserci dei ritardi Sull'uscita del gioco E potrebbe sì arrivare nei primi mesi del 2026 Ma appunto è una situazione nella quale Rockstar Games non vuole ritrovarsi Quindi a mio avviso Grand Theft Auto 6 uscirà negli ultimi mesi del 2025 Anche perché ci sono pure altri insider Che dicono che sempre avendo delle fonti interne a Rockstar Games Sono sicurissimi ed è sicuro al 100% che il gioco arriverà alla fine del 2025 Inti per cui andate a capire che dare ascolto a queste notizie Prenderle per certe al 100% è completamente inutile Poiché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra Entrambi dicono di avere delle fonti interne a Rockstar Games Però come dire le date non corrispondono Per cui c'è da mettere in dubbio tutto Anche io vi posso dire di avere delle fonti interne a Rockstar Games E vi dico che GTA 6 uscirà a maggio del 2028 Sarei preso per pazzo, assolutamente sì Perché è proprio una data sparata lì alla cazzo di cane Però chi vi dice che io non stia dicendo la verità Ho delle fonti interne per cui Questo giusto per farvi capire che ciò che sentite online Anche se proviene da insider Che comunque hanno una certa attentibilità eccetera eccetera Non potete prendere queste notizie alla lettera Ma semplicemente signori noi ciò che dobbiamo fare è stare qui Fermi ad aspettare che Rockstar Games parli e che ci delizi Con un qualche trailer, con un qualche screenshot Ed in generale con delle nuovissime novità succulente per noi Detto ciò signori questo è il mio parere in merito al fattore data d'uscita Secondo me è una grande boiata tutta sta roba del gioco rinviato al 2026 eccetera eccetera Potrebbe capitare assolutamente Non lo metto in dubbio Ma la vedo proprio una cosa molto improbabile E se dovesse accadere è perché veramente qualcosa si è messo male Ma con tutte queste fughe di notizia che ci sono Probabilmente lo scopriremo subito Detto ciò signori io direi che per questo video possa essere tutto Inti per cui signori io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare a meglio il canale Per farmi sapere se questo video vi è piaciuto Fatemi sapere anche la vostra qui sotto con un commento in merito Come sempre vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici Iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti Se avete voglio seguitemi su Instagram e TikTok E noi ci rivediamo con un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti